Valli del Pasuvio. Una donna è rimasta ferita a seguito di un incidente tra due auto avvenuto poco dopo mezzogiorno lungo la strada provinciale 246 in località Ponte Croci. A scontrarsi per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale intervenuta per i rilievi una Fiat Grande Punto e una Toyota Yaris. Ad avere la peggio proprio la conducente della Toyota che è rimasta incastrata nell'abitacolo. È stato quindi indispensabile l'allerta lanciata ai vigili del foco che attrezzati con martineti e cesoie sono arrivati con una squadra specializzata da schio. A bloccare la donna al posto di guida un suo piede è incastrato tra i pedali sotto il volante. Una volta estratta dalle lamiere la conducente è stata affidata ai sanitari del suo 118 che l'hanno trasferita al pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Orso per ulteriori accertamenti. Inleso invece l'autista della Fiat. Le operazioni di bonifica messa in sicurezza dell'area di aviazione del traffico sono durate circa un'ora.